Storie di Serie A, su Radio Serie A con RDS Un saluto da Alessandro Alciato, un saluto da Storie di Serie A e un saluto al nostro ospite di oggi, che in realtà ospite non è perché da un giorno e qualche ora è di fatto uno dei padroni di casa qui a Radio Serie A con RDS Ciao, Cristian Vieri, detto Bobo Ciao, Alessandro, detto Alessandro Partiamo benissimo Senti, io vorrei proprio partire dalla fine con te, dalla fine della tua carriera da calciatore perché c'è stato tantissimo dopo, mi vengono in mente delle cose random ballando con le stelle, la birra con il tuo nome, le imprese, le aziende, la Bobo Summer Cup la Bobo TV che è la grande novità ma è stato il tuo modo per combattere la noia? Diciamo che dopo comunque aver giocato a calcio, comunque il calciatore smette presto, no? Sono 36, 38, beh, sto a 40 anni, no? Poi c'è qualcuno che arriva anche a 42, no? Poi qualcosa devi fare, non tutti, però io comunque qualcosa devo fare, no? Sono stato un po' appena smesso, sono stato un po' di tempo a Formentera rilassato, sono rimasto tranquillo perché mi sa un annetto, un annetto e mezzo e poi dopo sono andato a Miami, sono stato a Miami e gli ho detto vuoi andare a trovare un lavoro a Miami in America? Ho trovato Bean Sports che mi hanno preso subito perché comunque la sede in America è a Miami quindi era tutto perfetto, io che vado a Miami da 30 anni quindi era proprio perfetto, no? Ho parlato con il grande capo e insomma abbiamo fatto questa collaborazione che poi è andata avanti per 5 anni, no? Quindi dopo aver giocato, sono stato a Fremo un anno e mezzo, due anni più o meno poi sì, un anno e mezzo, due anni e poi dopo sono stato a Miami che volevo cambiare un po' e sono stato a lavorare per Bean Sports e poi dopo ho vissuto 5 anni e mezzo a Miami, food volley, tennis, padre non c'era ancora però è arrivato dopo, però dopo è arrivato anche il padre e poi comunque andavo a fare i mondiali con Bean Sports in Brasile sono stato un mese e mezzo, insomma comunque ci vedevamo sempre in giro, vedevo sempre tutti quanti in giro però ho fatto una collaborazione con loro per 5 anni e mezzo e poi dopo ho deciso insieme alla Costanzi di tornare in Italia la cosa vera è che non ti va di fermarti mai sì, a parte il periodo di Formentera però, infatti non ti sei mai fermato mi piace fare qualcosa perché comunque io sono, come hai detto tu, io mi annoio molto facilmente io quindi devo sempre trovare un qualcosa, no? e faccio delle cose che mi piacciono, che mi divertono comunque fondamentalmente, no? se no non riesco a fare cose che non voglio fare siccome io a Formentera giocavo a food volley e nel momento del food volley giocavo in spiaggia c'erano, non so, mille persone ad agosto a guardarmi mentre giocavo con gli altri, allora ho detto facciamo la Bobo Summer Cup e giochiamo hai detto perché non farle pagare? no, non pagavano, no, sì sì, 5 ore che andavano beneficenza esatto, ma poi ho detto facciamo la Bobo Summer Cup, facciamo il food volley, no? quindi mi sa due o tre anni di food volley, poi dopo è entrato il padel allora l'ho cambiato e ora è la Bobo Summer Cup padel, no? e come hai detto tu, mi piace fare un po' di robe, no? quindi mi piace essere attivo ma da calciatore ti sei mai annoiato? proprio il calcio giocato ti ha mai annoiato? no, la cosa bella del mondo tornassi indietro giocherai fino a 50 anni è vero? sì, 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 perché ami, ami questo sport se fai il calciatore ami questo sport non c'è un mio ex compagno che non tornerebbe indietro e rifarebbe tutto da capo perché è troppo bello giocare a calcio poi quando fai un lavoro, un mestiere, chiamalo come vuoi che ti piace, non ti pesa mai, no? poi la città è che ci possono essere momenti belli, brutti ma questo fa parte del lavoro giornaliero, no? in tutti i lavori in tutti i lavori del mondo però quando sei fortunato come noi che fai un lavoro che ti piace è ancora più bello, no? quindi fare il calciatore è stato il mio sogno da bambino io, come sapete voi, ero in Australia, no? io ho 14 anni e mezzo ho due sogni vuoi andare in Italia? vuoi giocare Serie A e Nazionale e quindi sono partito da solo e dico sempre quando parlo con i bambini a scuola quando i bambini mi chiedono cosa bisogna fare, no? per giocare a calcio io dico sempre se hai un sogno devi seguirlo perché i sogni si realizzano i miei si sono realizzati, no? ma in Australia, cioè, tu giocavi a calcio? è una cosa che ti è venuta così all'improvviso la voglia di Italia ma io giocavo a calcio facevo il terzino sinistro poi giocavo a cricket il terzino il terzino sinistro è guardabile terzino sinistro è alla Roberto Carlos e poi dopo mentre giocavo ho detto al allenatore ma gioco a 14 anni 13 anni mi metti davanti perché facevo piccoli quando andavo su facevo gol quindi ho detto mi metti davanti perché faccio più guardi attaccanti quindi ho messo davanti e da lì sono rimasto attaccante e quindi come ho detto prima il mio sogno era di giocare in nazionale in Serie A sei venuto da solo in Italia? io e Polo Con che poi ho giocato in Italia alla Lazio mi sa la Fiorentina se non sbaglio comunque è come la Lazio è notato la Lazio poi ci siamo ritrovati alla Lazio e sono partiti a lui e io poi non sono più tornato la tua famiglia cosa ti ha detto? quando hai detto ciao no loro sono stati bravi perché comunque ma all'inizio avranno detto cioè si sono detti lasciamolo andare vada il nonno nonno zia e zio stanno là si divertono qualche mese poi torno solo che poi io non sono più tornato quindi sono stati bravi perché comunque mi hanno lasciato decidere anche se avevo 14 anni e mezzo io volevo fare il calciatore quindi il papà mi ha detto vuoi fare il calciatore però devi farlo in maniera seria non puoi stare dall'altra parte del mondo e farlo così vuoi farlo? va bene mettiti d'accordo con il tuo nonno e mio nonno era pazzo innamorato di me quando mi ha visto giocare no 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 questo deve stare in Italia ma tu sentivi che insomma era quella la tua strada o in quel momento proprio zero? no io sapevo che volevo fare il calciatore avevo 14 anni e mio nonno mi portava in giro a fare i provini quindi io mi ricordo che ho fatto un provino per il Genoa uno con la Fiorentina uno con il Prato che poi non mi avevano preso e non mi voleva nessuno quindi dicevano anche a Rogrezzo che sì sì non andavo bene allora io mi allenavo con il Prato e allora un giorno viene il nonno di Diamanti a Lino di Alessandro Alessandro che sarà alla Bobo TV e il nonno mi dice dai vieni a giocare con noi fai gli allievi regionali e io smese di allenarmi con il Prato e sono andato subito a giocare e mio nonno mi ricordo mi dice ogni gol che fai ti do 5.000 lire è andato in bancarotta aspetta faccio la prima partita e faccio 4 gol quindi arriva con 20.000 lire la seconda partita faccio 3 gol quindi viene 15.000 lire e poi la terza partita mi dice guarda facciamo così da 1.000 lire e quindi lui mi seguiva mi accompagnava adesso la tua carriera ovviamente la ripercorriamo volevo tornare un attimo alla fine tu hai detto io avrei giocato fino a 50 anni il momento in cui hai deciso di smettere come è arrivato quando è arrivato per molti è un dramma sì ero stufo di tutto e di tutto quindi ero stanco mentalmente non ero contento quindi mi ricordo vado a fare un amichevole con l'Atalanta fuori casa in Svizzera ma non lo so e quindi il primo tempo esco e dico allenatore del Neri io me ne vado sono uscito e me ne vado a casa e da lì l'ho smesso e lui? no ma dove vai no ma stai qua no ma devi giocare e comunque stavo ancora bene solo che motivazioni no stanchezza mentale che poi oggi dico cosa è la stanchezza mentale cosa? yeah ma cosa è la stanchezza mentale ma vai in quel momento ero non lo so ero così quindi l'ho deciso di smettere ma molti non lo sanno non se lo ricordano però tu a un certo punto dovevi andare a giocare nel bottafogo a fine carriera no io dovevo andare a giocare da un mio amico alla Boa Vista ah nel Boa Vista si era detto molto anche si era scritto del bottafogo anche no poi ero lì allora tutte le squadre cominciavano a uscire ma io no volevo andare da lui e poi dopo mi sono venato un mese là poi mi sono detto ma cosa fai qua torna a casa cioè basta o lo fai ai livelli altissimi no cosa vai a far tu no allora gli ho spiegato a mio amico JP e e sono tornato sono tornato a casa no quindi poi insomma da lì finito tutto ti è mai venuto il rimpianto ma guarda come ho detto prima tornarsi indietro giocherai fino a 50 anni no lo dico ora però io in quel momento se ho smesso perché mi andavo a dismettere qui non posso sempre dire se tornassi indietro non è reale non è non è reale questa roba qua è facile dirlo adesso è capito quindi come ci dicono i genitori i nonni bisogna nascere puoi rinascere con l'esperienza quindi va bene così va bene così ma della tua carriera italiana dai sappiamo tutti tutto allora facciamo così raccontiamolo attraverso qualche aneddoto io ti dico le squadre e tu mi dici un aneddoto divertente o meno divertente o il personaggio che ti è rimasto impresso ovviamente partiamo dal Torino prima squadra la squadra con quei esordi un donico che vedevo che era innamorato perso di me a livello di giocatore no io mi ricordo io giocavo in primavera con rampanti e facevo sempre gol e poi io volevo giocare quindi cosa faceva il mister Mondoni mi portava in prima squadra mi allenavo e poi mi portava in panchina e non mi faceva entrare allora dicevo ma che faccio non gioca in primavera e poi non giocavo in prima squadra allora dopo 1-2-3 settimane se io proprio bam 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 la porti e c'era se non mi sbaglio c'era lui Mondonico Perenni che è il secondo il prof e forse Moggi non mi ricordo ok non lo spogliatorio e mi dice cosa c'è mi dice ma o mi fai giocare in prima squadra se no se no mi chiamare e mi fai giocare in primavera e mi dice ma qua c'ho a Casa Grande Lentini perché c'è a Bresciani quel giocatore dice ma tu sei più forte di loro sì sì sono più forte di loro io dicevo io quindi ok allora ti faccio giocare in primavera no perché vedeva che comunque volevo giocare e niente torno in primavera poi dopo quell'anno vincevano lo scudetto e poi dopo poche settimane ricomincio a chiamarmi e poi mi faccio giocare entrare no poi mi fai solo dire in capitale dall'inizio titolare io volevo giocare sempre quindi era una sofferenza per me non giocare anche se loro erano più bravi di me io avevo 17 anni però ero così volevo giocare io quindi poi quando mi lineavo con la prima squadra faceva botte e cazzotti con tutti faceva la guerra lui impazziva che poi il grande Torino quell'anno arriva terzo in campionato fa un campionato incredibile poi arriva in finale Copa UEFA io ero in panchina accanto a lui due tre sì lui era la mia sinistra a cinque metri io ero in panchina e faccio mi sento mettimi e gli giravolo quando tiro su la sedia no? e lui no faceva finta in uso in tiro mettimi forse la sedia l'ha tirata su per questo anni dopo poi l'ho visto la sedia e tu lo ha me l'ha tirata su a me no? quindi lei era un grande Mondoli veramente un grandissimo guarda mi dispiace che non c'è più ma poi niente lo sentivo anche dopo che avevo smesso e quello che ha creduto più in me più di tutti no? lui altri due allenatori no? mi ricordo poi dopo vado via perché voglio andare a giocare no? quindi faccio la trafiga delle serie B e poi ci ritroviamo all'Atalanta quando lui vince il campionato di B mi chiama subito vieni da me no? quindi vado all'Atalanta subito giochiamo col Parma c'era Stoichkov c'era Pippo anche giocava col Parma no? finisce 1-1 fa gol Stoichkov su punizione sai chi è Stoichkov? sì con il Barcellona che ha vinto anche un pallone d'oro come dire fa gol su punizione non sono rincoglionito no no e al 92esmo una roba del genere faccio l'1-1 io no? e quindi sotto la curva fine partita mi prende e mi dice ricordati metto in testa tu devi correre 90 minuti tutte le partite soffrire andare su lungo andare sempre andare sempre ti devi allenare sempre a 2.000 all'ora sempre 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 perché alla fine alla fine il lavoro a te ti pagherà sempre e questa cosa mi è sempre rimasto in testa no? quindi ho avuto c'ho sempre un grande anche da piange mi voleva bene quindi ero bambino ma mi ha portato dalla primavera in serie A mi ha fatto esordire poi dopo mi ha richiamato anche l'Atalanta hai detto sono andato in serie B a fare un po' di trafila c'era Pisa c'era Ravenna Ravenna scopertore discoteche si può dire a Pisa ho fatto malissimo e mi dispiace c'era Anconetani che diceva io devo scegliere tra te Paolo Poggi io ho scelto te ho sbagliato fai schifo me ne dicevo tutti i colori me ne dicevo aveva ragione comunque devo andare là e dare una mano alla squadra portarla in serie B è inguardabile quell'anno faccio due gol inguardabile proprio si avevo militare tutto ma non trovo scuse inguardabile forse troppo ero troppo presuntuoso perché venivo dal Torino tutto è il golden boy della primavera nella realtà vera fiammato in testa quindi mi è servito che poi lui ogni domenica mi sfondava immagino lui faceva la riunione parlavo lui poi parlavo all'allenatore se no a volte non parlavo nemmeno all'allenatore no basta così via tutti tu te lo ricordi quando lanciava il sale si sale sul campo e poi guarda Ravenna Ravenna in serie B posto fantastico gente fantastica e conosco il pineta e lì attenzione e lì ogni tanto uscivamo non è che uscivamo sempre però sono stato da dio Ravenna siamo retrocessi purtroppo però è stato un anno importante un anno importante di crescita e mi è dispiaciuto perché si vive proprio bene quindi era bello fare la serie B abbiamo fatto fatica tutto l'anno tutto l'anno abbiamo fatto fatica è lì che si è iniziato a parlare molto di Cristian Vieri le discoteche le donne ma te non dava fastidio? no ma lì no ma lì non ci cagava nessuno però un po' ho trovato dei ritagli di giornale già ne parlavo poi te lo sei portato dietro negli anni ma quello che ti voglio chiedere non ti ha dato fastidio alla fine ti avevano etichettato nel corso degli anni ti dico una cosa io sono venuto dall'Australia io andavo a fare i provini andavo al bar allì a Prato la gente diceva lui non raccomandato perché sentivo perché io facevo finti parlare in inglese ma sentivo non parlavo benissimo in italiano ma capivo lui non raccomandato non sfonderà mai non è bravo quindi la gente ti butta giù la gente ti butta di tutto addosso quindi io da solo sono detto forte io carattere forte 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 non mi interessano cose che non posso controllare io no dico negli anni si è raccontato tanto a quella parte però tu in campo facevi delle cose che non hai rischiato di oscurarla senti qua mi chiami mia mamma una volta che ero all'Inter mi dice dove sei? sto andando alle pinettina vedi sempre a questa cazzo di pineta hanno ragione e io dico ma sto andando a fare all'allenamento ma la pinettina dove mi alleno? pineta era la discoteca pinettina centro ma no ma che vuol dire ma purtroppo nel calcio dov'è? se fai una cosa sembra che la fai tutti i giorni sembra che che andava in giro tutte le sere ma non è così la gente parla i giornali parlavano fagli parlare che problema c'è? ma che vuol dire ma la gente vedeva come uno la gente vede come ti allena se no non ti prende nessuno se no non fai un guà partita per dieci anni la gente non ti vuole se no quindi che vuol dire l'estate mi dici andavo al pineta hai 30 giorni liberi andavo ai 28 giorni al pineta sì facevo le 6 della mattina sì perché avevo bisogno di fare le 6 della mattina volevo divertirmi sì andavo a divertirmi tutti i giorni al mare poi andavo in discoteca come tutti i ragazzi della mia età qui non c'è niente di di strano no? solo che se lo fa il calciatore perché comunque il calciatore non può mai fare niente no? qualsiasi cosa fa è sempre un dramma invece io quando potevo uscivo se non ci mancherebbe peraltro tu sei a stemio se non sbaglio non bevo ogni tanto bevevo un po' di perché prima si beveva la coca cola e rum no? coca e rum si beveva che ora se lo vedo mi viene male a guardarlo adesso zero no ogni tanto mi bevo una bevanda che si chiama Ugo che è dolcissima mi piace una cosa dolce non è Brachetto Ugo questa roba qua quindi roba di anziano ma si roba di vecchietti dopo Pisa dopo Ravenna Venezia Venezia bello brutto allora triste Venezia abbiamo cambiato quattro allenatori quindi bello non era il più simpatico Maifredi arrivava al campo andava nello spaventore mi faceva Bobo che vuole mister apri vieni qua mi portava alla finestra e diceva il Maifer perché si chiamava il Maifer lui il Maifer oggi macchina blu maglione blu orologio blu quindi ridevo il giorno dopo Bobo parlava in terza persona sì sì parlavo così Bobo ora capisco un po' di cose e dimmi mister vieni qua mi portava alla finestra il Maifer oggi macchina rossa maglione rosso orologio rosso era di una simpatia incredibile quell'anno abbiamo avuto problemi quattro allenatori c'era prima Ventura poi è andato a Ventura e aveva tornato a Maifer poi è tornato a Ventura poi è andato via e hanno preso hanno messo il secondo se non sbaglio squadra fortissima squadra incredibile ma non siamo riusciti non lo so perché non siamo riusciti a far benissimo quell'anno là se devo pensare però a una città totalmente lontana da te è proprio Venezia sì io abitavo a Mestre ecco mi ricordo mi sono operato alle tonzille io quindi ho mangiato gelato per 20 giorni 5 kg al giorno mi dice mangiare gelato io ok non è un anno positivo ho fatto 11 gol ma non è un anno positivo a livello di calcio e comunque sempre questi problemi sempre di tiro quindi non è un anno positivo poi l'Atalanta insomma l'Atalanta ci sei passato più volte hai già parlato di Mondonico un altro personaggio o un altro momento da raccontare c'era Tovagliari il Cobra simpatico simpatico il Cobra poi c'era Morfeo anche Pisani che non c'è più squadre di giovani affamati come dei lupi io mi infortuno due volte prendo una ginocchiata avevo un ematomo così si troffermo tre mesi poi rientro dopo qualche partito un'altra volta stesso posto ma sono stato bene quell'anno là si sta bene poi a Bergamo si sta bene si vive bene a Bergamo io abitavo in città alta tutti incazzati perché abitavo in città alta tutti in città bassa io dicevo quindi qualcuno a Bergamo alta abita si ma io dicevo ma cosa ne frega di fare città alta città bassa che cambia un minuto lo so qua e non capivo io no no perché ma no cosa non lo so ma non so nemmeno perché sono in città alta ho visto un appartimento mi piace qua stiamo parlando di uno dei posti più belli più belli d'Italia non lo so io poi c'era un mio amico che aveva si chiama Kik con la famiglia aveva il ristorante Sole io andavo tutti i giorni là ma non capivo non vedevo il problema io no città alta ma un minuto sono in città bassa che vi cambia però è stato molto molto bene a Bergamo ma sai che sto ridendo da solo a pensare a tua mamma il pineta è la pinettina non mi passerà più questa cosa la Juventus invece cos'è stata per te la Juventus mi ha introdotto nel grande calcio quindi arriva la Juventus mio padre mi dice questa maglia pesa quindi stai zitto alleniti e non parlare mai e arrivo là c'era un grande allenatore che era Lippi grande società grandi dirigenti squadra fenomenale ricorda qualche nome? no c'è Peruzzi Ferrara Deschamps Del Piero chi c'è Jugovic squadra piena di Torricelli Di Livio Lombardo le risate che ti fai con Lombardo con loro ti ammazzi dalle risate quindi c'era un grande gruppo e arriviamo quell'anno io Amoruso Giuliano Montero Boxic e Falcioni terzo portiero e quindi noi 4-5 erano sempre insieme la mattina e la sera quindi c'era un grande gruppo e mi ricordo che l'allenamento era due e mezza per le tre quindi tutti al campo alle due e mezza chi è in ritardo paga la multa quindi se arrivi alle 2-35 in ritardo paghi 5-12 paghi 100 mila lire 100 euro quindi io dico vado al campo alle 2 così faccio il figo vado in palestra non c'è nessuno arrivo alle 2 vado in palestra tutta piena la palestra erano già tutti lì da ore e lì ti fanno capire che comunque hai tutto per diventare quello che vuoi a livello di squadra a livello personale a livello di giocatore proprio e quindi insomma e a quel punto dipende da te però sì poi dipende sempre da te però ti mettono nelle condizioni la prima volta che andavo in una grande squadra così ti mettono nelle condizioni di comunque giocare tutte le competizioni per vincere io non ce l'ho mai stato fino a quel momento là se non ricordo male con l'IPI è quasi una rissa subito sì una rissettina subito vuoi non fare una rissa? esatto dopo qualche mese ma discussioni che erano da spogliatoio no no e non te la cavi così no ma si sa già ma non me la ricordo bene ho detto 10 milioni di volte ma sì ma un batti becco niente di che poi niente stesso niente non devo rispondere io perché comunque sono io che non devo rispondere invece con la triade Mogi, Giraudo, Bettega no tutto ma Mogi lo conoscevo già da quando ero in primavera quindi Bettega è grande centroavanti e Giraudo è grande amministratore quindi insomma buongiorno e buonasera fra l'altro Mogi disse all'avvocato Agnelli ieri mai all'Atletico Madrid il giorno dopo ti presentavano in Maglia sì ma lì ho spinto io per andare tu perché? problemi di contratti perché l'Atletico? perché mi volevo in tutte le maniere e che esperienza è stata? non tanto buona no devastante come non tanto buona? ah no hai fatto una faccia no è stata l'esperienza io me la ricordo buonissima hai fatto una faccia come dire no a livello calcistico voto 10 perché comunque in Spagna secondo me è il calcio più bello che c'è in Europa è il più divertente si mi chiede perché sono andato via non lo so mi tirerei delle martellate in testa però è un calcio che comunque ti diverti a giocare abitavo a Madrid che comunque Madrid è una città meravigliosa gli spagnoli sono spettacolari quindi ho vinto la classifica dei cannonieri sono stato da Dio il pubblico mi amava ero sempre in giro con i miei compagni molto divertente quell'anno molto divertente poi hai detto non so perché sono andato via ma sì perché anche Antic mi diceva ma perché vuoi andare via anche Antic non c'è più e mi diceva ma perché vuoi andare via ma stai qua ma qui sei il re della Spagna qui fai tutti i gol che vuoi se vai in Italia per fare un gol devi impazzire è tutto più difficile è tutto più catenacciato è tutto più difesa qui giochiamo per l'attacco per lo spettacolo c'è ragione è un calcio è un calcio completamente diverso tra quello spagnolo e italiano e aveva ragione è un calcio divertentissimo e poi è bello perché insomma ma non stavi più bene? sì ma insomma io a Ale ti conosco da quel periodo ero un po' pazzarello quindi è stato un errore sì allora il problema è che se uno mi dice non devo andare da nessuna parte non devo andare là devo stare a Torino quindi è stato un errore andare via da Torino non lo so perché Torino potevo vincere delle cose importanti però in quel momento sono stato via Spagna mi è rimasto qua la Spagna perché come ho detto un calcio fenomenale è bello da giocare ti diverti quindi sicuramente è un errore se mi devo tornare indietro dire sì è un errore andare via dall'Atletico Madrid Lazio Lazio super squadra abbiamo perso lo scodetto che ne parlavo l'altro giorno uno che lavora qua con voi che è laziale abbiamo perso lo scodetto non so come perché l'hai perso non lo so erano nettamente più forti di tutti e quell'anno mi facciamo anche al ginocchio quindi i primi tre mesi non gioco e lì vinciamo perdiamo il campionato l'ultima giornata e poi vinciamo l'ultima Coppa delle Coppe no? la Coppa delle Coppe a Birmingham anno incredibile tutto bello poi Roma ragazzi Roma è la città più bella del mondo secondo me è una bellezza io andavo in giro con il Colosseo e dicevo io stavo lì a guardare il Colosseo così è troppo bello quindi andavo in giro per Roma e quell'anno da quando rientro Lazio proprio diciamo ha delle partite incredibili il personaggio che non ti scordi di quella Lazio? no il più simpatico ce ne so ma Bocic è il mio idolo Bocic è una simpatia ma credimo a tutti quanti perché comunque io ero sempre in giro con Pancaro che comunque avevo giocato con lui in primavera a Torino quindi lo ritrovo dopo vent'anni Polo Con c'era Almeida con Senzao quindi c'era Stanquic il Mancio che squadra comunque era il mio idolo il Mancio squadra pazzesca al Mancio ci dicevo che era il mio idolo ma dicevo ma cazzo mi hai fatto fare gol a tutti solo a me non mi fai fare gol che tu sei anche il mio idolo e lui? e lui diceva fai fare gol a tutti il mondo hai fatto fare gol a me zero ma sono a palla in un anno quindi Salas no ma delle risate divertenti divertenti eravamo un grande gruppo eravamo poi c'erano il grande Sven che era sempre molto molto pacato allora ti dicono un aneddoto come lo dici bene? aneddoto fine primo tempo non mi ricordo la partita no? entra dentro è arrabbiato no? ma lui non si arrabbia mai quindi c'è la scrivania un tavolo e fa cavoli ragazzi niente io stragiato per cavoli al massimo cavoli ragazzi aaaaa cioè cioè di una carineria grande persona grande personaggio no? e poi quell'anno perdiamo perdiamo lo scudetto all'ultima giornata ma eravamo già persa la penultima a Firenze non avevo pareggiato e poi vincevo la Coppa quindi grande gioia incredibile per i tifosi della Lazio che ancora dopo vent'anni mi scrivono ancora il giorno di quella partita mi arrivano ancora i messaggi sì e poi arriva l'Inter tanto perché l'Inter? perché volevo giocco Ronaldo ecco e allora mi chiama Pezzotti che era il secondo di Lippi no? e mi dice se faceva una pazzia vieni? gli dico sì vengo a giocare con Ronaldo volevo proprio andare a giocare con lui quindi ho dato il mio ok poi dopo c'è stata la vendita e tutto quanto e poi c'era Lippi quindi ritrovavo Lippi no? e poi giocare a San Siro stadio delle meraviglie chi era Ronaldo per te prima e poi chi è stato Ronaldo quando l'hai conosciuto? il giocatore più forte che c'era proprio non c'è paragone con nessuno quindi quei tempi era incredibile quindi ero curioso io allora niente facciamo tutto e vado all'Inter i tifosi della Lazio distrutti tutti arrabbiati capisco però volevo andare a giocare là con lui poi San Siro a me San Siro mi fa proprio impazzire San Siro proprio tuo stadio preferito in assoluto San Siro giocare a San Siro è una roba fuori di testa e quindi vado a giocare vado da Lippi vado a giocare all'Inter e come vedo Ronaldo mi ricordo era a sedere io ero da solo ero mi sa che era un'ora e mezza prima di allenamento una roba del genere non so perché ero lì arriva lui no? mi alzo vado da lui mi do la mano e dico io sono due a giocare con te e da lì è iniziato insomma siete diventati veramente amici dopo sì vera persona una cosa che avete fatto insieme? una cosa insieme? fuori dal campo diciamo ah qualche casino avete fatto che si possa raccontare? siamo anche due mangiatori no ma lui è proprio simpatico lui è divertente quindi noi andiamo in giro per Milano nei ristoranti la gente quando entravamo la gente si alzava tutta qua a dire io dice una madonna davvero? perché siamo un gruppo rock qua sì 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 proprio mi ricordo la prima partita di campionato Inter Verona giochiamo alle tre no? quindi noi arriviamo all'uno e mezza arriviamo a quel pulmo andiamo su vado nello spoletoio poi esce dello spoletoio attraversi cinque metri c'è una stanzina e c'è una finestra piccolina ora non so se c'è ancora no io apro e vedo tutto pieno scendo giù a vedere il campo tutto esaurito c'è tutto pieno c'è un 60.000 persone è la madre ok e dicevo che cosa ho fatto io? ho detto io la prima partita noi giochiamo in casa come mi hanno comprato 90 miliardi 15 ore più costosa al mondo ho detto io dicevo in ritiro dicevo mamma mia Bobo far cazzate allenati bene perché la prima partita di campionato tu devi fare un gol devi fare un gol devi arrivare boom subito gol se no vengono fuori mille pole mille robe mille quindi tu ti ritiro prima partita arriviamo là vado a scaldarmi vedo 65 60-65 miliardi ma una roba credimi da pelle d'oca poi cantavano il fenomeno cioè una roba da mi dicevo se sono lui uno come lui deve fare cinque una partita perché ti dà una carica che è una roba fuori uno non può capirlo se tu non giocavi con noi quel periodo non capisci quanta gente c'era non puoi capire la gente è una roba il casino che facevano quindi la prima partita è proprio non inventarti niente la prima devi fare gol per forza fai gol per forza vai liscio non combinarli tutti i colori perché poi vai liscio e fai un gol un gol devi farlo quindi riesco a far gol subito e poi bello 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 stadio meraviglioso club meraviglioso cioè c'era tutto tutto per per vincere ma quei 90 miliardi pesavano no mi fregava niente zero zero io dicevo solo allo stadio perché giocare a San Siro è peso è pesante giocare a San Siro quindi ci vuole personalità quindi io non ci ho allenato dovevo fare gol un gol alla prima un gol devo fare così rimane quanto gol tranquillo tutto apposto mi è partita bene siamo partiti dopo un quarto d'ora meno male dicevo meno male bravo Bobo bravo Bobo invece quanto hai amato e quanto hai odiato Massimo Moratti uno si arrabbia lì per lì quando succedono certe robe ma è stato mio presidente per sei anni e mi ha voluto bene quindi odiare non è la parola giusta uno può dire quanto ti sei arrabbiato sì delusione alla fine no ma la storia è quella del fatto che ti facevano pedinare sì quelle robe là quindi deluso non arrabbiato deluso ma quella è una cosa extra che non la conto io poi la scelta come è andata le cause quello fa parte è una cosa extra no i sei anni io non posso dire niente è stato presidente che lui ama l'Inter ha amato l'Inter l'abbè di Moratti chi la senta ancora se noi perdevamo un amichevole era disperata da quanto amano l'Inter da quanto questa famiglia ama l'Inter lei io sto sei anni se noi con noi amichevoli ritiri sempre lì ama l'Inter la follia quindi cosa posso dire di me niente posso dire niente non siamo stati fortunati perché sono fatti male ma è normale io su un calcio d'angolo prende la palla e mi cascano addosso ma che roba è la finale scudetto 5 maggio ma che roba è succedere non lo so per me era tutto perfetto era tutto bello c'era forse troppa voglia di vincere da parte sua della famiglia dei tifosi la nostra la voglia che avevamo noi era folla forse era troppo quindi tu sai quando una cosa è troppo poi non viene mai non ti viene bene certo quindi cosa siamo arrivati sempre lì io sono sicuro che se non ci faceva male il brasiliano io lo chiamo il brasiliano se non ci faceva male il ronni non potevamo non vincere io penso questo io perché io se tu lo vedi nell'allenamento dici ma può giocare da solo lui quindi era una super squadra squadra forte ci mancava dico un po' di fortuna a livello fisico a livello di infortuni mettiamolo così non fisico a livello di infortuni solo quello e che sennò secondo me non c'era partita con nessuno però questa è una cosa che dico io poi uno può dire no con i sei ma la cosa certa eravate una coppia straordinaria dai fenomenale quindi io quando giocavo con lui facevamo gli 1-2 facciamo male gli arbitri gli arbitri mi diceva mi ricordo il 2-3 arbitri mi dicevano come siete forti voi due gli arbitri si ora non mi ricordo chi erano come siete forti voi due quindi lui era il top quindi c'era tutto tutto per vincere non aveva dato a spese il presidente non aveva mai dato a niente poi lo vedeva che lo faceva con voglia quindi c'era tutto per vincere mi chiedi poi dopo che succede 5 maggio lui Ronaldo cioè perdiamo l'ultima partita e lui con Cooper non andava d'accordo allora mi chiamo il presidente la notte gli rispondo non vendermi il brasiliano subito sapevo che era per quello lui vuole andare via qui là l'autore e poi dopo ha venduto ronni era distrutto anche lui quando l'ha venduta eravamo distrutti tutti eravamo distrutti perché comunque l'abbiamo aspettato eravamo un gruppo eravamo tutto noi lui l'ha venduto contro voglia pensa e l'altro è andato via contro voglia tutti quanti non venderlo quindi capito è andata così poi dopo quattro partite è stato accacciato 4-5 è stato accacciato Cooper quindi quello fa parte del gioco la città allenatore però il presidente non voleva vendere Ronaldo quindi figurati se vuole vendere Ronaldo Moratti è impossibile Ronaldo non voleva andare via ma voleva delle cose noi non volevamo anche andare via è andato via un dramma in quella telefonata fra te e Moratti cosa gli hai detto? hai detto presto non vendere non mi vendere Ronaldo mi avevo aspetato un anno poi vendere lui vendi tutti e non vendere lui ma anche lui lo sapeva quando mi ha chiamato ero distrutto quindi io l'ho distrutto mentre io lo dicevo perché comunque si stava bene c'era tutto per vincere ma non lo so cosa è mancato che ti devo dire un po' di fortuna un po' di non lo so dovevo essere più bravi noi sicuramente però c'è che vuol dire ci ha lasciato un vuoto no? ci ha lasciato un vuoto quando quando l'ha venduto perché comunque Ronaldo era il più forte del mondo e lui era la bandiera dell'Inter quindi noi eravamo tutti con lui no? ma anche lo stesso presidente che l'ha venduto ma era controvoglia tu sei interista o sei stato interista o eri interista della nascita no lo chiedo perché hai cambiato talmente tante squadre poi è chiaro che l'Inter è stata la parte più importante della tua vita no l'Inter sono stato tifoso lì perché comunque ma anche tifoso della Juve quando ero Juventus ero stato tifoso della Juventus come ero tifoso della Samu io sono tifosi tutti alla fine però l'Inter è quello che è la squadra dove io comunque che mi ha dato di più sono sei anni e la gente mi ha amato per sei anni è quasi strano vederti per sei anni nella stessa squadra sì ma io non sarei mandato via dall'Inter io proprio stavo era proprio stavo da Dio io i sei anni difficili no? sofferti credimi perché sono attaccato all'Inter perché sono sei anni sono stati sei anni sofferti sofferti ma in maniera credimi viscerale sì perché tutti aspettavano me o Ronaldo qualche d'uno che vincessimo uno scudetto noi capito invece ci vogliono tutti no? lo sapevamo però volevamo tutti credimi eravamo tutti impazziti Zanetti Cordoba Materazzi tutti lì da quel gruppo di Biagio da sei da tre quattro cinque anni che eravamo lì tutti a cercare di fare di tutto quindi sono stati sei sei anni che mancava sempre un qualcosa no? quindi sempre poco peraltro sempre poco sempre poco quindi ho lasciato tutto me stesso lì quei sei anni nel bene o nel male giocando bene giocando male ma ho giocato partite che non dovevano giocare io che non stavo in piedi però non me ne fregava niente poi giocavo punture su punture tanto noi siamo così o io sono ancora proprio così io quindi pur di non cammino uguale fammi una puntura che gioco no? quindi io proprio così perché sentivo la sentivo mia capito questa cosa qua la squadra in cui ti hanno coinvolto di più e meglio proprio a livello emotivo ma perché sono stato di più perché ho fatto Lazio un anno Juventus un anno Atletico un anno e voglio bene tutte le squadre perché io comunque sono così sono buonaccione io sono stato bene in tutte le squadre e ringrazio tutte le squadre che mi hanno dato la possibilità di giocare con loro quindi devo dire grazie a tutti però l'Inter sei anni della mia vita che dovevo vincere lo scudetto vincere la Champions distruggere tutti quindi sono sei anni dove eravamo sempre lì e non siamo mai arrivati però come dico sempre io ho dato tutto me stesso quello che potevo dare nel bene o nel male litigato con i tifosi litigato con tutti l'avversario litigato con tutti litigavo perché perché diventavo pazzo da non vincere perché vincevano tutti e l'unico che non vincevano io andavo fuori di testa perché comunque eravamo lì potevamo vincere anche noi tutto quanto cioè noi potevamo andare in finale di Champions League potevamo vincere la Champions League ma non così facciamo la Champions partecipare perché Ronaldo e la squadra che avevamo vai per vincerla ma vai per vincere real realmente non andiamo a cercare realmente bastava leggere dai l'elenco dei giocatori bastava leggere la rosa di quell'intra quindi c'era tutto quindi questo 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 foto qua di non vincere l'ho sofferta tanto io ma tantissimo l'ho sofferta no? ti è mai passata? no ma non è che ti passa è difficile spiegare questa cosa qua cioè tu sei veramente uno di quei giocatori cioè che per classe che per forza avrebbero potuto vincere tutto e hai vinto nettamente meno di quanto avresti potuto che forse sei l'esempio classico devi avere fortuna di stare in una squadra con quei 6-7-8 anni che vince tutto noi siamo arrivati lì no? cosa devo fare? tornarsi indietro farei sempre la stessa scelta perché era la scelta giusta da star dieci anni all'Inter star lì perché c'era tutto per vincere e io come ho detto volevo giocare a Ronaldo poi c'era Zanetti poi c'era Toldo poi c'era Maderazzi poi c'era Di Biagio poi c'era sono arrivati giocatori su giocatori poi c'era chi arrivava perché voleva giocare con Bobo Vieri ma quello non lo so poi è arrivato Crespo volevo da Cannavaro poi Battistuta poi capito c'erano giocatori che poi c'era il Cino che ogni volta il Cino cioè c'erano dei giocatori che il Cino mi diceva vai là che te la metto là ma chi è che ti dice così vai là te la metto là e poi te la mette là e fai gol ma chi te lo dice nessuno ma che roba è capito quindi primo anno c'era Baggio quindi e siamo arrivati quarti lo spareggio per arrivare quarti no? che mi sono rifatto male ancora c'era Zamorano Moriero a destra cioè quindi non so cosa dirti capisci tu mi dici Blanc cioè Peruzzi in Porta il primo anno mi dici perché non hai vinto non lo so non ho idea Bobo indovina cosa ti voglio chiedere perché il Milan? esatto perché comunque avevo fatto la risoluzione del contratto ed ero libero il mio ex procuratore gli dico senti se hanno bisogno a Madrid subito la prima cosa che io ho detto atletico di nuovo e quindi Miguel che è il presidente anche oggi ha detto no non abbiamo bisogno non so se ha detto no no non lo voglio più perché mi ha fatto impazzire quell'anno là o se veramente non avevamo bisogno e poi ero sul mercato è venuto a Galiani e mi ha detto ma verresti e io subito sì ho detto e comunque volevo stare in una grande squadra poi era la rivale sì sapevo che avrebbe dato fastidio sì però comunque a quel punto sono andato là sono andato là e ho fatto sei mesi là e devo dire sei mesi bene al Milan anche se giocavo poco non riuscivo a fare gol ne combinavo tutti tutti i colori davanti alla porta perché avevo talmente a fare gol che non riuscivo a fare gol quindi ne combinavo tutti i colori ho fatto un gol d'orecchio a Empule che mi si è sbucciato mezzo orecchio e poi non giocavo spesso perché giocavano altri e comunque non sono stato bene lo stesso Galiani gentilissimo società sono stato da Dio sei mesi però volevo giocare io e quindi i sei mesi sono passati credimi veloci così ero già a dicembre anche perché c'era un mondiale che si stava avvicinando quello del 2006 non stavo giocando io volevo giocare volevo fare gol non riuscivo a fare gol era rientrato Pippo da un infortunio Ancelotti giustamente fa giocare più Pippo che me perché è così perché è già tanti anni che con lui ma è giusto poi è giusto che gioca chi fa gol io non sto facendo gol inguardabile è giusto che sto fuori io che problema c'è quindi devo andare via devo andare a giocare e che c'era il mondiale comunque e quindi vado al Milan e poi da lì sei mesi sono volati e poi di lì vado a Monaco e il Monaco che parentesi è stata? Monaco è stata una bella parentesi stavo bene stavo bene a Monaco mi sa che avevo fatto? la prima partita contro il Bordeaux non la ciappo mai i canchi non eravamo nemmeno in una buona condizione poi dopo la seconda terza partita ho cominciato a segnare e comunque stavo bene stavo giocando e stavo bene a Monaco sono stato addio anche lì sei mesi poi dopo mi sono fatto male al ginocchio quindi ero andato lì proprio per giocare e di conseguenza andare al mondiale sai cosa mi ricordo di quella conferenza stampa di presentazione di Thelma che tutti parlavano dell'eccesso della multa che hai preso hai preso una multa sull'autostrada in Liguria tutti dicevano sì per eccesso di velocità e c'è talmente tanta voglia di giocare che è arrivato e ha preso subito una multa io non so mi ricordo mi ricordo quello le stronzate esatto no quella che facevi tu io me la ricordo ma tu le facevi ma io non so questa cosa non me la ricordo nemmeno io esatto ma come fanno a sapere della multa chi che la sapeva beh era sui giornali c'era la foto c'eri tu quindi la foto arrivavano i giornalisti presente l'autovelo sei tu ti facevi ciao senti quel mondiale lì allora tu saresti andato sicuro perché Lippi poi l'ha detto tante volte cioè senza l'infortunio tu avresti giocato Germania 2006 poi chissà come sarebbe andata perché è chiaro con i sei come ma non si va a nessuna parte ma hai mai digerito quella senza lì ripeto perché ti avrebbe portato sicuro ed è stato facile ti far per l'Italia senza esserci perché tu eri a casa per l'infortunio guarda sono malato dell'Italia io quindi l'ho tifata ma è giusto così perché no no giusto giusto non è automatico quando ero un bambino volevo giocare per l'Italia quindi non è che dico non devono vincerlo loro ma ci doveva essere anch'io non la vedo così io capito cioè vincete il mondiale ok bene ma ci doveva essere anch'io con voi non ho chiesto di stare da casa questo quanto male faceva però no distrutto ero che vuol dire ma è normale perché poi sapevo che con Lippi sarebbe cambiato tutto lo sapevo ma glielo avevo detto io quando è venuto a vedermi una partita in casa col Monaco mi sa in Coppa UEFA faccio gol su rigore mi sa una roba del genere di me il bambino c'era il mondiale perché la squadra era forte e lui è uno che è l'allenatore giusto no ma lo sapevo io e lo sapevo io l'ho sofferto per tanti anni ma è normale è normale perché avevo fatto i due era giusto a fare il terzo con tutti gli altri perché non ci doveva essere io o perché non ci doveva essere uno per un infortunio non va bene te l'ha dovuto dire che poi non ti avrebbe portato era scontato no non ce la facevo mi ha aspettato fino all'ultimo però non ce la facevo chi è stato Lippi per te nella tua carriera? è stato un attore che mi ha fatto fare il salto di qualità la Juventus se no ti fa capire come ti deve allenare cosa vuol dire stare in un grande gruppo che è il gruppo quello che conta no? allora lì sì che puoi andare in giro per il mondo e puoi vincere no? ha vinto tutto ha vinto quindi insomma così si può dire al grande mister quindi bravo in nazionale ci fu quella conferenza stampa movimentata no? quando tu avevi detto ai giornalisti sono più uomo io li ti avevo messi insieme una vaccata vabbè si può dire a me anche una vaccata? mi serve una vaccata? eh dai sì anche i giornalisti mi hanno detto tutti giornalisti davvero? tutti loro? io non c'era no? qualcuno di una carriera lì me l'ha detto ah sì eh? poi quando sono lì devono dire no non dovevi vabbè no però vengo al punto tu ti sei ammorbidito negli anni sembri molto più sereno rispetto all'oggi sì quando c'è sempre un altro quando c'è le bambine quando c'è bambine sì che era insopportabile c'è da una volta no non era insopportabile chi mi conosce sa come sono io adesso c'è una persona straordinaria no faccio le bambine ma hanno cambiato la vita le bambine cambiato? l'amore? ti ha cambiato tutto? tutto la moglie costanza le bimbe posso chiedere di più io mi ha regalato due bimbe meravigliose quindi gli sono grato a vita per le due bimbe che mi ha dato l'amore poi te lo sai ai due bimbi l'amore per i figli è una cosa folle una cosa da pazzi io stamattina alle 6.10 ero già pronto a portare la scuola la moglie mi dice quando ero mai alle 6.00 la mattina quindi ero in salone sveglio alle 7 preparate colazione e poi le porto a scuola quindi c'è un prima e un dopo dai prima dei figli e dopo i figli la cosa più bella che ho fatto nella mia vita è uno stento uno stento a crederci tornando alla tua carriera ci sarebbe stata anche la Sampdoria a un certo punto ma tu sì ma avevo il ginocchio distrutto e io però non ti sei presentato in ritiro per andare in vacanza no 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 non era vero non c'era nessuno che salenava più di me ma va io l'Italia era in finale io ero incazzato ma il ginocchio gonfio così quindi ho detto ma cosa faccio basta non vuoi un gioco più basta me ne vado via lasciate il contratto quindi cos'è che sono stato in vacanza lasciate il contratto basta me l'ha fatto Marotta eh sì ci ho avuto Marotta a Ravenna e alla Sampdoria quindi lasciate il contratto lì non è che sono stato in vacanza mi sono stato in vacanza mi ha detto basta non vuoi più giocare perché comunque ero ero a pezzi no con la con non andare al mondiale e il ginocchio così dopo che mi sono parlato mi ha detto ma no basta non voglio anche quando correvo male ho detto basta ma volevo andare alla Sampdoria perché comunque ero tifoso della Sampdoria aveva un biennue quindi ci ho giocato mio padre avevo Vialli e Mancini e le miei idoli quindi era perfetto no e per quello sono andato via mica per altro perché non volevo più giocare invece la Fiorentina perché? perché perché comunque volevo tornare in un bel gruppo in una società importante era giusto andare a giocare in una società da giocare quindi per quello sono andato con la famiglia della Valle tra l'altro abita via Prato no? andavi in treno treno, scooter, motorino mi ricordo un servizio intimo con te in treno che andavi allenato era bellissimo ero a mezz'ora c'è un traffico allora andavo in treno se non andavo con lo scooter andavi in treno nascondevo il motorino nascondevo a un chilometro dallo stadio e poi andavo andavo là in treno andavi poi facevi a piedi l'ultimo pezzo da Campo di Marte allora ah boh boh dove fai? straordinario buon passaggio nello spogliatoio succede qualsiasi cosa non hai vissuti tanti quella è la cosa più incredibile che tu abbia mai visto nella tua carriera in uno spogliatoio non lo so eh una cosa dai non hai viste mille non ho viste venti nello spogliatoio è è un posto per i pazzi esatto gioco e male risate che mi sono fatto io cosa cosa mi manca è lo spogliatoio perché trovo dei personaggi che credimi dai la cosa più pazza fatta dal personaggio più pazzo ora non mi ricordo sì ma ce ne sono ce ne sono tanti chi era simpatico era Tarivo West beh lui parlava col signore peraltro sì ma era simpatica quando ha detto all'IP andiamo a fare allenamento no allora l'IP ci mette in mezzo al campo e dice ragazzi la formazione è questa per domani no è un sabato lì ci gioca non lo so Blanc non so chi c'era Cordberg formazione davanti davanti via e stiamo per andare via e dice mister che poi parlava quel vocione no Tarivo e Madero era di una simpatia Tarivo parlava mezzo inglese mezzo italiano mister questo vocione e io ho detto eccoci ci sia Giacomo ha detto mister ha detto eccoci qui mi è fuori bisogna tenerlo no dice Dio mi ha detto che io devo giocare io ero a terra proprio crediamo tutti a ridere e allora mister che toscano quella battuta appena dice cazzo a me non mi ha detto niente wow che risate proprio le risate chiudiamo con una partita che si sta per avvicinare che è la partita che è Juventus Juventus Inter intanto parto dalla tua Juventus Inter ce n'è una che ti abbia lasciato un ricordo particolare un ricordo migliore rispetto alle altre di quelle che hai giocato guarda ti dico una cosa il gol che ho sbagliato perché quello che vinci vinci sei contento ho sbagliato un gol che vi dico andate a vederlo non so come è uscita non so come è uscita allora cross cioè Recoba parte da destra dribbla uno due mi ricordo ora sta per crossare no no sta per crossare crossa di destro io arrivo ok la porta il palo mi sa che ce l'ho qua quindi io sono per chi non sta vedendo sta solo ascoltando a 20 centimetri io sono praticamente a 20 centimetri dalla riga dalla porta cosa faccio io siccome devo fare gol veloce mentre la palla arriva io sono già così io cioè mi ricordo così il piede sinistro devo fare la traduzione sinistro io già vado lì per metterla dentro arrivo troppo in anticipo la palla prende il tacco così me lo ricordo il tacco e mi fa così va sopra credimi mi si ferma il cuore volevi nasconderti sto così dico no non è possibile ma come può uscire una palla così che volevo solo metterla dentro non volevo nemmeno toccare troppo e allora sto sul palo mi giro e dibiaggio ma che stai a fare io ho detto che ti dobbia lo so è uscita sono di piatto non so lì ancora oggi a 50 anni mi dice ma perché è uscita ti giuro non lo so ma perché mi deve uscire quella palla perché mi deve uscire quella palla là ma se io cascavo inciampavo la buttavo dentro dai dai che passa non fare così ma la prendi di piatto ti prendi in faccia e va dentro capisci ti prendi sul petto non capisco più difficile sbagliare quindi tu dici la cosa bella le vittorie sono tutte belle ma questo gol marcio che non ho fatto non riesco a capire perché mi è uscita la palla non riesco a capire oggi chi è più forte Juventus o Inter Inter perché? perché è una super squadra è giocatore di una grandissima qualità che giocano molto bene meglio Inzaghi o Allegri? oggi meglio Inzaghi perché? perché ha fatto una scorsa una finale quest'anno sono primi sta dimostrando di essere un grande allenatore e sta a fare l'Inter e sta giocando alla grandissima si gioca ovviamente però tu mi dici Allegri ha vinto sei anni fa quindi c'è capito quindi sono domande da ci perciò però mi interessa sapere il tuo punto di vista oggi uno dice Inzaghi però Allegri comunque secondo in campionato ha due punti quindi bravo anche Allegri qual è il giocatore che ti piace di più in assoluto fra le due squadre? Lautaro è molto forte bello da vedere Turam bella coppia molto molto forte Juventus è solida se tu mi dici un giocatore in particolare no della Juventus non ce n'è uno in particolare squadra solida però cioè Di Marco a me l'Inter mi fa impazzire a me che ti devo dire ha fatto un gol a 50 metri ha proprio qualità c'è la Noglu Mkhitary sono giocatori forti forti quindi e stanno giocando oltre a vincere le partite giocando con bel calcio quindi insomma però l'Iventus c'è Bremer in difesa davanti c'è i quattro attaccanti che sono forti quindi gioca uno gioca l'altro anche Keane che non ha ancora fatto gol ok però è in grandissima forma è proprio sta giocando alla grandissima sta giocando poi non sta segnando ok però comunque poi c'è Chiesa di Chiesa può fare la differenza in qualsiasi momento poi c'è Milik e Vlaovic no che uno gioca l'altro no poi dentro l'altro insomma quindi ma cosa manca a Vlaovic però per diventare un trascinatore vero? ma alla fine mancano mancano manca il giocare sempre e i gol sono quelle sono quelle le robe no trascinatore c'è quando gioca sempre anche normale quindi siccome non gioca sempre è anche difficile no e mancano anche i gol agli attaccanti mancano i gol perché comunque vieni sempre giudicato per i gol la continuità giocare tutte le partite e dei gol in più che comunque servono se non manca la squadra no vabbè l'ultima non te la faccio me l'ero preparata ma l'ultima domanda la salto grazie Bobo ciao Alessandro sei per la pace giusto in generale sempre vabbè come se te l'avessi fatta è stato un piacere noi ci vediamo ci sentiamo mercoledì prossimo grazie ancora a Bobo Vieri ospite di questa puntata di Storie di Serie A Storie di Serie A su Radio Serie A con RDS